Ciao! Ciao! Newsletter, un po' di novità. Sì, anche perché saranno sei mesi che non la facciamo, ma ci siamo persi via come al solito da parte. Allora. Cominciamo dalle vacanze. Sì. La voglia. Pasqua. Pasqua. Allora, Pasqua è un solito, Pasqua chiudiamo, vabbè parte sabato e domenica, chiudiamo il lunedì di Pasquetta che sarà quest'anno il 17 aprile perché Pasqua è il 16. Quindi saremo chiusi chiaramente il 15 e 16 che è sabato e domenica. Come al solito. E il lunedì dell'angelo, cioè il 17. Esatto. Poi in aprile c'è anche il 25 aprile. Che è un martedì. Che è un martedì, per cui faremo il ponte. Quindi sabato e domenica, come sempre, il centro è chiuso. Saremo chiusi il 24 aprile e il 25 aprile. Che è un altro lunedì. Vi darò i compiti a quelli di yoga e di ata. Sì. Studiare. Vi riferite magari appunto a Mariella, come sempre per eventuali... Vi prolunghiamo di due settimane. Durante la settimana recuperi. Oppure? Oppure recuperano in... Durante la settimana, se non volete saltare due settimane di fila, potete contattarci e chiedere di partecipare a un'altra lezione. Così almeno recuperate. Cioè continuate a praticare con continuità. Altrimenti prolunghiamo. Magari andatevi anche voi. Ma poi ci sono due seminari, due workshop con altri due invitati speciali. quest'anno torna a trovarci il maestro indiano Ramesh Shetty, per gli amici Ramesh G. E... Il 5... No, il 6 e il 7 farà il seminario finalmente sulla sua special practice. E... Di maggio stiamo parlando. A maggio, sì. 6-7 maggio. Per chi frequenta il corso oramai lo saprà perché praticamente li ho storditi a tutte le ore con questa cosa. E la sua pratica speciale che è una pratica che ha un ritmo diciamo Ashtanga, ma che è costruita in modo diverso su posizioni di Ata. Per cui non è la prima serie di Ashtanga, ma è proprio una serie originale sua. Per cui 6-7 c'è ancora posto e c'è questo seminario. Il weekend dopo, 13-14... C'è un seminario sull'adjustment di prima, seconda e qualcosa della terza serie. In senso sono adjustment dedicati a chi pratica prevalentemente Ashtanga Vinyasa, ma comunque anche chi praticata yoga può avere delle difficoltà magari che vuole superare sia negli asana più diciamo comuni, semplici, sia negli asana magari più difficili di inarcamento, di equilibrio sulle braccia, di inversione, di torsione. Rameshiji è veramente un'esperienza straordinaria e ha un occhio fantastico. Per cui se ti vede, vede esattamente da come ti muove, da quello che fai, che cosa ti potrebbe servire per acquisire quella scioltezza in più, quella flessibilità o quella forza che ti necessita per fare quel particolare asana. Una cosa, il 6 e il 7 il seminario sarà composto da il sabato il 6, la pratica guidata, e poi da lì in poi per tutto il weekend gli adjustment sugli asana di quella serie. Quindi sono asana più vata diciamo. Mentre nel 13 e il 14 non ci sarà pratica guidata, ci sarà solo riscaldamento, il classico con i saluti al sole che fa lui, e poi sarà solo unicamente adjustment. Per chi vuole praticare invece la prima serie, non la prima serie, ma anche la seconda. Pratica MySourceStyle al mattino dal lunedì al venerdì. Cioè è un'opportunità veramente fantastica perché per chi vuole migliorare, sviluppare la propria pratica personale o avere la possibilità, diciamo l'occasione per dare una sferzata alle proprie abilità, alle proprie capacità o al proprio ritmo di pratica a 5 giorni in cui dalle 7 alle 9 del mattino faremo MySourceStyle. Quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, potete fare la prima serie, la seconda serie, quello che fate. Quello che fate normalmente è... Per farvi pacciugare da lui. Esatto, per farvi aiutare, farvi insegnare nuovi asana e eventualmente farvi migliorare quello che già conoscete, che già fate. E poi, dopo tre anni di inseguimenti, fatiche, mail e smarrimenti, dal 16 al 18 giugno finalmente arriva Megan Kerry a Milano, fa l'unica tappa italiana, è anche prima tappa che fa in Italia perché lei non è mai venuta in Italia. E con Cristian e con la Fra di Cielo Terra siamo riuscite, unendo le forze di tre centri, a organizzare questo seminario bellissimo. Per cui ci sono ancora posti, non tantissimissimi, ma ce ne sono ancora. Fare la pratica a 16, che è un venerdì la sera, e poi il 17 tutto il giorno, segnalo il 17 pomeriggio, ci sarà la pratica di yoga, che è un'esperienza veramente meravigliosa, con Megan, due ore e mezzo di pratica in, stupenda. E poi il 18 ci sarà la mattina, domenica, la masterclass. È possibile partecipare a tutto il seminario, oppure a singoli eventi. E sul sito poi trovate, adesso poi qua sotto metteremo anche le indicazioni. Ok. Poi ricordiamo che quest'estate faremo i corsi di formazione insegnanti yoga full immersion di Ashtanga Vinyasa dal 29 luglio al 13 agosto, e di Hatha Yoga dal 31 luglio al 13 agosto. E per la prima volta, quest'anno, dal 29 luglio al 6 agosto, ci sarà il full immersion di Shiva Flow, in cui partecipando imparerete e riceverete il diploma per insegnare quattro flow differenti. Sono Nava, Vasista, Vajira e Pinchamayurasana. Basta. No, volevo dire un'altra cosa, invece. Per quanto riguarda le lezioni regolari di Shiva Flow, volevo segnalare che dopo Pasqua, come anche per le lezioni di Pilates, per esempio, dopo Pasqua cambierà il programma, perché adesso stiamo facendo il mercoledì la lezione di un'ora e mezza, come asana impegnativo stiamo facendo Vajira Asana, mentre il giovedì stiamo lavorando su Natarajasana. Dopo Pasqua faremo, nella lezione del mercoledì, quella più lunga diciamo, lavoreremo su Tittibasana, mentre per la lezione del giovedì lavoreremo su Padmasana. Prima di passare da Vajira Asana a Tittibasana faremo una lezione speciale in cui riprenderemo Pinchamayurasana perché è rimasta nel cuore di tutti, per cui faremo un giro in pincia prima di passare. Ho fatto una piuma del pavone quasi. Esatto. Va bene, allora salutiamo e ci vediamo presto. Però oggi sei stato troppo serio. Porca miseria. Vabbè. Perché non c'è il gobo. Di solito c'è il gobo, c'è il coniglio, no? Ah, è vero, non c'è. Che mi suggerisce le battute. E questa volta, non so, si è uscito, maledetto. Adesso sarà là fuori che ci chiama. Perché il coniglio adesso non salta più dalla finestra. Allora pretende che lo si vada a prendere in giardino e lo si scorti personalmente a casa. E devo proprio portarlo alla porta di casa perché l'altro giorno l'ho portato al portone e invece di tornare a casa è andato giù in piscina. Esatto. Speriamo che almeno avesse la cuffia. Va bene. Alla prossima. Ciao. Ciao.